Ciao a tutti, sono Paolo Quadrini e sono il coordinatore BIM di Gopillar Academy. Qualcuno mi conosce probabilmente perché sono anche il docente del corso di Dynamo oppure perché sono il responsabile delle domande nel gruppo Facebook di Gopillar Academy. Oltre a questo sono un architetto specializzato nell'ambito delle infrastrutture e più in generale lavoro nel mondo del BIM da 13 anni. Venendo a noi siamo felici e orgogliosi di presentarvi la nuova rubrica di Gopillar, la prima rubrica tutta completamente dedicata al BIM, che abbiamo voluto chiamare A tutto BIM. Come primo tema da trattare ho scelto una serie di tre argomenti molto tecnici ma anche molto utili che riguardano il software Revit e parliamo di rampe, scale e ringhiere. Cominciamo con le rampe. Generare una rampa inclinata su Revit è un'operazione piuttosto semplice. Ci mettiamo su una pianta e qui nel progetto non mi sembra che ci siano rampe inclinate ma andiamo a imparare il comando rampa inclinata all'esterno per capire bene come funziona e poi tutto quello che impareremo sulle rampe inclinate sarà propedeutico per anche le scale. Il comando rampa inclinata sta sotto la scheda architettura, rampa inclinata, clicchiamo e vediamo che come al solito si attiva la scheda contestuale che ci dà degli strumenti specifici per la costruzione della rampa. Possiamo costruire la rampa da componente, quindi già compresa di tutto. Ora qui vediamo il pop-up che ci mostra la scala, ma appunto come dicevo prima sono la stessa cosa, la scala solamente più opzioni, possiamo costruire i contorni e le alzate in maniera separata. Cominciamo con il componente che è molto comodo, utile e semplice. Possiamo generare soltanto delle linee o degli archi, quindi il componente si creerà da solo, senza che metto i bordi, creerò la linea di mezzeria oppure l'arco di mezzeria e verrà costruita la nostra rampa. Come opzioni abbiamo il solito livello di base e il vincolo di altezza superiore che abbiamo preimpostati a piano terra e primo piano con i due offset di base superiore. Questi parametri sono impostati così perché stiamo costruendo la rampa al piano terra, che ha come livello associato livello 0 piano terra. e come livello superiore in automatico viene preso il livello che sta sopra a quello selezionato a livello di base. Se avessimo avuto per esempio un livello mezzanino o un altro livello intermedio, lui avrebbe preso quello superiore, quindi terra, mezzanino. Ciò non toglie che possiamo cambiarlo in qualunque momento e in qualunque modo. Questa parte è un discorso di estetica, quindi etichette, testo su, testo giù, che non vediamo adesso perché sarebbero prevalentemente per la messa in tavola. Abbiamo le dimensioni di larghezza. Qui possiamo gestire quanto è larga la nostra rampa. E qui abbiamo le solite informazioni, i dati di identità e le fasi. Ora, il tipo che abbiamo precaricato, che abbiamo trovato precaricato in questo template, magari se avete preso un altro template potreste trovare degli altri tipi, o magari anche nessuno, di rampa inclinata, ma ciò non toglie che possiamo modificare il tipo o duplicare i tipi tutte le volte che vogliamo. Quindi andiamo a vedere questa inclinazione 8% che cosa mi può fornire. I parametri sono forma e la rampa inclinata 8% ha la forma solida. Possiamo scegliere tra solido e spesso. Solido sarà appunto in sezione un triangolo, e spesso avrà invece uno spessore che seguirà la pendenza. Se abilito spessore, spesso, mi si attiva il parametro spessore che posso modificare. Lo lascio come solido. E la funzione interna è sempre il solito parametro che dà un'informazione in più al nostro componente. La grafica anche non è importante in questo momento. Il materiale è anche facilmente intuibile. Di nuovo, è solo un'assegnazione di un materiale alla rampa, ma non ce ne preoccupiamo al momento. Queste dimensioni invece sono fondamentali. Abbiamo una lunghezza massima che qui è impostata a 50. Questa lunghezza massima ci consente di mantenere il controllo, magari normativo, sulla lunghezza massima che può avere una rampa. Quindi se noi dobbiamo fare 100 metri di rampa, il sistema ci aiuterà a doverla spezzare almeno a ogni 50 metri. Cioè non oltre 50 metri. Quindi se la nostra normativa ci impone che la rampa non può essere più lunga di 10 metri, mettiamo 10. Quindi quando arriveremo a quel limite, Revit ci interromperà. Inclinazione massima è esattamente questo 8% che qualcuno ha messo per iscritto qui nel nome. Quindi questo è solamente un nome. Tant'è che poi l'inclinazione non si gestisce con una percentuale, ma con un rapporto. 1 a x, dove x è questo valore qui, 12.1, è il rapporto che determina l'altezza, che è 1, quindi 1 metro. Per arrivare a 1 metro devo percorrere 12 metri in lunghezza, punto 1. Quindi cambiando questo valore vado a cambiare un rapporto, quindi 12 metri per arrivare a 1, e evidentemente, adesso non ho fatto il calcolo, questo rapporto equivarrà a qualcosa come l'8%. Cambiando questo valore, o mantenendo questo, avremo un obbligo di non superare questa inclinazione massima. Potremmo avere un'inclinazione minore di questo rapporto, ma non maggiore. Quindi per adesso lasciamo così, proviamo a disegnare per componente questa rampa, clicco sul primo punto, e vediamo che Revit mi dà una previsione di rampa che non può superare questi 10 metri. Io quindi non posso immaginare, non posso pensare che una rampa di 10 metri arrivi all'8% a un piano che sarà, che è a circa di 3 metri di altezza. Però quell'opzione di 10 metri di massimo mi consente di sapere già che non posso superare i 10 metri, quindi anche se vado fino a qui, lui mi costruisce soltanto 10 metri, e mi dice 10 metri disegnati, ne mancano altri 20, per arrivare alla quota che abbiamo imposto noi, livello piano primo, con questa inclinazione. Quindi creo la prima rampa, mi metto a una distanza, dove voglio, o anche, non so, da tutt'altra parte, è ovvio che più faccio cose complicate e meno è possibile che il sistema funzioni. Comunque è verosimile che la rampa poi ricominci qui dopo un pianerottolo, clicco, di nuovo si blocca a 10 metri, Revit mi crea l'altra rampa e mi crea anche il pianerottolo di raccordo. Il pianerottolo cercherà sempre di crearmelo, anche se vado in sassato, mi crea un pianerottolo fatto in questo modo. Posso anche creare un raccordo inclinato e lui cercherà sempre di modificare la geometria per far sì che sia tutto un continuo. Ora, ne mancano ancora 7 metri e qualcosa per arrivare all'obiettivo, secondo quell'inclinazione. Vediamo che succede se diamo l'ok così. Ci dà un avviso. La rampa non è lunga a sufficienza per raggiungere il vincolo superiore. Quindi vuol dire che la rampa l'ha costruita, ma qui non arriviamo alla quota desiderata, ma arriviamo sotto. Andiamo a vedere anche in 3D. Se ci mettiamo in prospetto 3D, vediamo effettivamente che questo livello non arriva al livello desiderato. E questo era scontato, lo sapevamo. Quindi, dobbiamo intervenire se questo è il percorso massimo che possiamo effettuare o riprogettiamo la rampa oppure aumentiamo la pendenza. E questo dipende dalle esigenze. Se dobbiamo mantenere la normativa vigente e sappiamo che non possiamo superare il 3% o l'8% o il 10%, dobbiamo cambiare il percorso. Dobbiamo trovare un'altra soluzione per arrivare al primo piano. Oppure, noi eseguiremo questa seconda opzione, non abbiamo nessuna normativa da seguire perché stiamo solamente sperimentando le rampe e quindi andiamo ad aumentare l'inclinazione di un tot. Per esempio, facciamo un'inclinazione al 100%, qui abbiamo già 20 e se clicchiamo su 20 vediamo che la rampa si adatta a una pendenza del 20%. E col 20% arriviamo perfettamente al livello. Ora, attenzione, aver messo inclinazione al 20% non significa che questa rampa adesso è del 20%. vuol dire che il massimo è 20%, quindi con il percorso che abbiamo disegnato questa rampa arriva in quota con una pendenza X che è sicuramente inferiore al 20%. Ok? Quindi adesso facciamo una modifica a questa rampa. Cancelliamo un po' di pezzi. cancelliamo questi. Questo lo trasciniamo un po' indietro. Quindi raccorciamo anche questo che era appunto la creazione del componente e vediamo che neanche con il 20% riusciamo ad arrivare in quota. No, ancora sì, ci arriviamo. Indireggio un altro po'. Adesso mi arriva l'avviso perché di nuovo non ho raggiunto il limite che mi ero imposto. A questo punto ci creiamo un tipo diverso, duplichiamo, lo chiamiamo 100% e ovviamente l'inclinazione massima del 100% sarà 1 a 1 e quindi 45 gradi. la lunghezza adesso questo non importa più però era per vedere appunto questo controllo lo lasciamo a 50 e in questo caso abbiamo di nuovo raggiunto la nostra quota senza avere una rampa a 45 gradi ma con una pendenza diversa che però ci permette con questo percorso di arrivare in quota. Vediamo adesso di modificare la rampa perché per esempio noi qui abbiamo fatto la rampa alla componente ma vogliamo modificare alcune cose per esempio vogliamo che questo arrivo sia un po' più largo non c'è un'opzione costruisci rampa con l'arrivo più largo sarebbe impossibile prevedere tutti i casi quello che ci è permesso invece è di modificare il contorno e le alzate quindi adesso io posso fare anche così questo me lo sposto di qua questo lo faccio così poi li raccordo e poi magari aggiungo un altro un altro pezzo faccio un altro contorno qui e qui faccio un'alzata do ok e vediamo che mi ha disegnato esattamente quello che gli ho chiesto io mantenendo questo arrivo in quota e mi ha fatto un pianerottolo perché dopo una rampa viene per forza un pianerottolo se adesso continuassi a fare le mie linee farebbe la rampa quindi mi ha mantenuto le impostazioni ho disegnato a mano non più la linea di mezzeria che mi generava in automatico il componente ma ho disegnato a mano i profili e le alzate per esempio se noi qui avessimo un pilastro che si intersega potremmo anche voler fare l'incavo quindi tagliamo con uno slice questa linea raccordiamo e abbiamo il nostro profilo morso dal pilastro o da quello che sia con la ringhiera che gli va appresso però ecco che abbiamo queste impostazioni che abbiamo toccato tutte quindi se mettessimo qua spesso verrebbe una rampa spessa abbiamo visto come costruire e modificare delle rampe inclinate e sfrutteremo questa competenza nel prossimo tutorial che tratterà invece le scale vale